Anni e anni di lotta sulla forma giuridica da scegliere, privato o pubblica, un lungo periodo privo di programmazione condivisa tra le sette società provinciali del servizio idrico, quindi la creazione della società provinciale Padani Acque. L'eredità che si ritrova il gestore unico è però lo sterminato elenco delle opere da 400 milioni previste dalla pianificazione quadriennale tra 2014 e 2017, infittito dai desideri dei sindaci. Le priorità sono cambiate, invece di un depuratore per ogni comune si realizzano nuovi collettori, come prevede il progetto preliminare fra Gussola e Casal Maggiore. La cittadina Casalasca ha un impianto di 40 mila abitanti equivalenti, ovvero ben oltre i 15 mila residenti e può ricevere anche i reflui di Gussola. L'obiettivo del presidente Alessandro Lanfranchi è realizzare una rete idrica più efficiente e meno costosa. I lavori per le manutenzioni straordinarie e ordinarie comportano 30 milioni di euro. L'apertura di alcuni cantieri l'anno prossimo eviterà ad alcuni comuni, già in fase di diffida regionale ed europea, di subire sanzioni dal 2017 nel caso in cui non inizino i lavori. La situazione della rete idrica è però complicata, tant'è vero che l'aumento della tariffa sarà inevitabile per poter compiere lavori che solo il gestore pubblico può fare. I cittadini della provincia di Cremona, che pur hanno una delle tariffe più basse della Lombardia ed Italia, un euro e mezzo per metro cubo, pagheranno di più, forse sino a 2 euro e 20 centesimi che si registrano in Emilia-Romagna. Tutto dipende da opere di manutenzione che non sono state fatte o da lavori rimandati da anni. L'elenco pianificato da anni è enorme. Si parla di vetusta impianti a Soresina, Formigara, Gadesco, di peggioramento della qualità dell'acqua in vari centri abitati, di malfunzionamento o di totale assenza dei depuratori in numerose frazioni, ma anche di scarichi indepurati e di assenza di coordinamento fra la gestione delle acque irrigue e dei reflui che non dovrebbero mai sommarsi. La zona del cremasco, grazie ai collettori, è servita meglio, anche se Serniano patisce da anni un problema di grave inquinamento. Cremona è divisa e proprio la politica, particolarmente litigiosa, ha fatto tardare padagna acque.